Buenas noches, benvenido! Come sta il pubblico? Un applauso, un applauso, un applauso! Come sta il pubblico? Come sta il pubblico? Come sta il pubblico? Come sta il pubblico? Benvenido! L'unico che da televisivo è senza subito al club della pizza con te! Una mala seczione del Chacal della trompeta! Abucheo! 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 Eres malo! Eres feo! Le hace cupe a los niños! Recuerda el próximo domingo soltera sin compromiso! PERO ALA CONCURSANTE NUMERO 1 AL ESCENARIO! El ganador esta novia se lleva a este fabuloso Jimmy 2018 Con elevalunas magnéticos, 6 airbags, cugera vasos de porcelana y gps con playstation GIVE ME 2018 chukki! Pregunte a su posicionado de los crats para la prueba de manejo Chichesante NUMERO 1 cantando la bamba en el Chacal de la Trompeta! Sì, ragazzi, non è migliorato, non è migliorato. Sì, ragazzi, 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 ragazzi... Sì, ragazzi, ragazzi... Sì, ragazzi, 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 ragazzi... Sì, ragazzi, 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 ragazzi... Sì, ragazzi, ragazzi... Sì, ragazzi... Ciao, amici... Ciao, amici... Ciao, amici... Ciao, amici... Ciao... 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 Ciao...